Da questa esperienza mi aspetto un miglioramento personale, sicuramente anche a livello professionale. Non ho delle aspettative particolari e precise, ma sono sicuro che un miglioramento me lo porterà sicuramente. Alla fine di questa avventura sicuramente mi ritroverò migliorato, sia a livello professionale che a livello personale. Le mie carte le giocherò tutte, penso di avere un potenziale e spero di essere all'altezza. È andata molto bene, è una soddisfazione incredibile. Per il momento ho ricevuto tanti complimenti, sono molto contento, porterò a Carlo un bagaglio eccezionale, questo sicuramente. La settimana è intensa, può essere paragonata un po' come la casa del grande fratello, nel senso che tutti qui dentro, lavorare di giorno e provare a divertirci la sera, però è intensa. Se gli orari sono tosti, però ne vale la pena sicuramente.